Buona giornata! Quanto e come c'è l'attenzione giusta al nostro corpo, l'attenzione ad avere un corpo che ti consente oggi di vivere, di poter dare e di stare nelle cose che facciamo e che compiamo in questa giornata. Molto spesso anche il mondo della cosmesi aiuta in questo, senza esagerare, senza esagerare, ma forse la miglior cosmesi che possiamo avere per i nostri corpi, per il mio corpo, per il tuo corpo è la gioia di vivere, è la gioia di vivere. Forse questa cosmesi dà un significato completamente diverso e forse anche più bello, non solo fuori, ma anche dentro, nell'anima, nelle cose che facciamo e cose che compiamo. Allora benvenga questa cosmesi, benvenga la gioia di vivere, da indossare oggi per la giornata che siamo chiamati a vivere. Certamente, così come ogni cosmesi, dura un tempo e domani, chi lo sa, forse può essere, anzi deve essere rinnovata, così come lo è per la pulizia del proprio corpo ogni giorno. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata!